Grazie ragazze, benvenuti. Benvenuti in una serie che era un po' ferma da tanto tempo, la serie Proviamolo, quei video one shot su alcuni titoli che mi sembrano interessanti o che mi vengono portati dallo sviluppatore. In questo caso è un titolo che mi pare interessante da poter portare, è un nuovo Souls-like. Io sono sempre abbastanza interessato e curioso di provare questi titoli molto difficili. Stiamo parlando di Steel Rising. Stiamo parlando di Steel Rising è che ha un setting molto particolare. Parliamo di rivoluzione francese, quindi fine Settecento. Ci sono in mezzo degli automi, ci sono personaggi storici, c'è Parigi. Siamo molto steampunk come cosa. Proviamolo. E mentre il caricamento va e vedo che è un po' lento. Eccoci qua. Ci ho impiegato un attimo il caricamento, non so meno il perché. Comunque ci siamo ragazzi. Mi faccio un attimo il giro nelle opzioni, poi andiamo in una partita. Non prendiamo troppo tempo, magari farò anche dei tagli tra una sezione e l'altra perché vorrei farvi vedere massimo mezz'ora di video in cui faccio qualcosa in più e vi do qualche, diciamo, sensazione a caldo. Ok, è interessante vedere un po' l'arte grafica del gioco. È effettivamente settecento ma ci sono tantissimi elementi steampunk. Vedete quanti robe metalliche, mezzi robottoni, c'è un vestito che sembra molto alla Ezio Auditore. Quindi non prendiamo altro tempo. Nuova partita. Questa è una delle prime feature di cui volevo parlarne. C'è la modalità assistita. Se noi abilitiamo, vediamo cosa ci dice. Sebbene nelle intenzioni Steel Rising debba essere un gioco impegnativo anche in modalità standard. La modalità assistita consente il giocatore di vivere un'esperienza ludica invariata ma adattando la difficoltà alle loro preferenze abilità. Santo cielo! Poter far vedere e permettere di giocare un titolo Souls-like a chi magari non è molto avvezzo? Wow, avete fatto veramente bene ragazzi. Tuttavia attivando questa modalità alcuni obiettivi basati sul livello di difficoltà non saranno sbloccabili. Assolutamente giusto. Per ottenere i giocatori dovranno iniziare una nuova partita in modalità standard. E qua vedete che l'assistita ha delle modifiche. C'è la riduzione dei danni di una percentuale. Oddio, 100% cos'è? Tipo una god mod? Non lo so. Conserva l'essenza animica dopo la morte? Credo che siano le anime di Dark Souls, no? Quindi anche qui alla morte si perde tutto quello che si ha nel punto di morte. Velocità di rigenerazione dell'autonomia. Credo di quello poco che ho visto si tratti della stamina. Anche qui si può aumentare. Tutti i raffreddamenti rapidi diventano raffreddamenti perfetti. Dovebbe essere una sorta di meccanica alla Gears of War, alla ricarica perfetta di Gears of War. Qua uno potrebbe anche dire, a me va bene tutto, prenda tutti i danni, tutto quanto, assolutamente. Però mi girano le balle che ogni volta che muoio perdo le anime, faccio fatica ad arrivarci. È un punto difficile, non voglio consultare una guida, no? Io posso attivare questa modalità in ogni momento, mettere magari la conserva, conserva l'essenza animica, farmare un po', anche morendo diverse volte, chi se ne frega, ma non perdendo le anime, e semplicemente per fare delle level up e ribloccare tutto quanto. Si può fare, si può fare. In questo momento ovviamente l'avvio in modalità assistita disattivata e vediamo l'esperienza di gioco nel suo pieno. Ripeto, è molto figo che ti permetta di fare questa cosa perché al netto del fatto che Elden Ring è un Souls-like facilitato in alcune meccaniche, in alcune meccaniche, soprattutto quella della perdita delle anime, delle uniche case, che è 100 milioni di volte più semplice non perderle rispetto a che tutti e tra i Dark Souls e soprattutto è molto più semplice raggiungere alcuni punti della mappa e non doversi fare una trafila che tante volte è una trafila di morti, continua e solo per arrivare da un punto all'altro per un boss per morirci due minuti dopo. e la difficoltà di Dark Souls è quella lì, secondo me. Qui c'è la possibilità eventualmente di toglierla del tutto. Chi sa, magari uno vuole provare il gioco e non c'è tempo da perdere, vuole fare una cosa più story-driven. Sono assolutamente d'accordo con il sviluppatore in questo caso. Date la possibilità al giocatore, datela. Oh, pardon. You know, actually, I think I'm in no mood for games right now. How much longer are we to be kept here? We just simply watch as Paris burns from afar? The rabbi are rioting. This is the price to be paid for spoiling the masses. You don't understand, Gabrielle. The king sent us here long before the city went up in flames. He knew what was about to transpire. I think he is somehow involved in these events. Oh, come Nelmari. True, he can be misguided and somewhat short-tempered at times, but he's no Nero. Then why have we been given no news for so long? Place en fort, Gabrielle. The children. They'll soon be out of harm's way. I am most certain of it. Monsieur Clary will take good care of them. For now, at least, we are safe. Safe? Vremont? Where are the Chateau guards? We are still protected. The king just preferred to use a different sort of guard. Hmm. Guards? Or jailers? They won't even let us leave this room, Gabrielle. The king? He has lost his mind to grief. First our darling, Sophie. Then our beloved son. My poor sweet angel. They didn't let me say goodbye. I wasn't even allowed to see him. See a fire. Something inside me is crying out. Telling me he's still of this world at times. I think I hear him calling to me. I'm so afraid. What do you fear, my queen? Everything. Everything horrifies me. The king's wrath. His army of indefatigable automats that Monsieur de Vaucanson has built for him. The charlatans who advise him, who are now more powerful than ministers. What happened to my son? What will happen to the children that God has deigned to leave in my care? I won't let any harm come to them. This I promise you. But how? Do you not see that we're prisoners here? All is not lost. You forget about the one automata that is not hostile to us. This new bodyguard of yours. E siamo noi. Uh, ok. Ho dovuto uscire un paio di volte per sistemare la grafica. La grava un po', purtroppo. È la dura vita dello youtuber streamer che ha un computer in grado di girare in 2K con un monitor in 2K. Ma non registra in 2K. Because, you know. Allora, non ho la 3080. Quindi mi devo arrangiare con un fluidissimo 1080. Ho abbassato anche di tanto la qualità grafica. Ci sono tre preset. Bassa, normale e alta. Bassa e normale. Non ne vedo troppa differenza. Allora. Uh. Fico. Bassa, bianca mi attizza. Ma pure questo colore. Questo ottone. Facciamo l'ottone. I capelli. Tutte belle capigliature dell'epoca. Ovviamente donnola. Quindi vediamo. Carina questa. Tanto che la vediamo spesso da dietro. Consiglio di vedere da dietro la capigliatura. Però. Questa qua è carina. Sono un po' posticci i capelli. E che potrebbe anche essere una cosa voluta. Dato che. Usavano. Hanno tutto. Entrambe erano delle grosse parrucche. Quindi va bene così. Sono sparite dalla stanza. Allora, eccola là. Quella è Maria Antonietta. Credo. Eh. Sì, sì. Sono là. Ok. Credo che questa con la coda sia più carina. Il viso. Si sono semplici. Ok. Diverse tonalità della pelle. Così vedete. Interessante. Devo sapere i termini che uso. Bello questo. Quindi io direi. Red button. Andiamo avanti. Classe. Guardia del corpo. Arma pesante. Ho letto e sentito che il. Il. Il combattimento è un po' legnoso. Quindi bisogna stare attento. Bisogna stare attenti. Prognate in grado di mobilizzare temporaneamente il nemico. Scudo. Stazione speciale. La guardia del corpo è praticamente sulla sua resistenza. Regge Erico. Un po' di un tank. Soldatessa. Alamarda. Gribbevo. Tutto in francese. Sbaglierò ogni singola pronuncia. La mia ragazza. Se vede questo video mi sparerà in bocca. Lo so già. Arma pesante. Ok. Anche questo. Attacco a distanza. La soldatessa è una combattente molto forte. In grado di maneggiare armi pesanti per lanciare quelle cose attacchi fisi. Ballerina. Arma leggera. Azione speciale. Scudo. La ballerina è molto resistente. E ha la capacità di mettere a segno più attacchi. Quindi DPS. Questo. La soldatessa direi che è un. Mezzo tank. Mezzo no. Questo è proprio DPS full. L'alchimista. Bastoni. Quar di vetro. Arma leggera. Azione speciale. Arma con infusione di gelo per alcuni secondi. Ampolla. Fiaschetta di resistenza di effetti alchemici. L'alchimista preferisce le armi alchemiche in grado di incendiare, gelare o fulminare i nemici. E di provocare disfunzioni alchemiche persistenti. Questa è una classe molto specializzata. Non la userei subito. Io userei la soldatessa che secondo me è un buon mix tra un tank e un DPS. Abbiamo potenza più 3 e autonomia più 2. L'ingegneria aumenta l'armatura. Bisogna anche capire. No. Facciamo soldatessa. Ci sta. Eccola qua. Oh. Con il Mark Ingenie dietro che si muove. Somehow. Non lo sanno come, quindi. Ok. Quindi. Parigi è... C'è un problema a Parigi. La regina Antonietta è stata allontanata dal re che è impazzito per la perdita dei propri figli. Agis. Ok. Conosco la zona di Parigi. È stato diverse volte a Parigi. Mmm. Ok, non so se siamo fisicamente a Parigi. Ok. Ok, non so se ci troviamo già a Parigi. E quindi siamo solamente in una zona più lontana da Parigi. Indaga su un mato delfino e raggiungi le rive della Senna. Ok, sì, siamo a Parigi. Non siamo full vita. Leggevo che c'era anche un... Diciamo, questa lignosità nel movimento. Vedete che sembra che vada più lento della... Dell'animazione. Saltiamo con... Con A. Giusto, sì. Sto usando il controllo Xbox. Oh. Ok. Ah, madonna. È... Uh, uh. Ok. Bello. Cintura ad accesso rapido. Apri metà l'oliatore. Questo contenitore di metà l'oliatore di energia è stato dato da le regioni che è stata nominata... Guardi, questa è... Alimentata da un'energia illimitata. Ora lo poserebbe riparare i danni subiti. La fieschetta Estus. Ok, va bene. Granate esposime. Mettiamo qua. Gettone per il diso. Ritornare alla carrozza... Eh, questo qua è il... L'osso del ritorno. Belli di sprite. Carini. Non mi dispiacciono i sprite. C'è anche un diario. Non ci prendiamo troppo... In chiacchiere. Effettivamente sentivo anche dei commenti sul raccogliere, aprire e interagire con il tasto Y. Non che è il triangolo. Un po' strano, ma va bene. Ok. Così ci muoviamo. Ogliato... No. Oh, mamma mia. L'oliatore che è con la X, quindi sì, con il quadrato come su... Usti. Undersource, ok. Ho usato un'arma. Che non sapevo di avere. Uno. Due. Tre. Uno. Due. Ah! Uno. Non c'è concatenazione di attacco... Debole, con attacco forte. Non c'è Ragdoll. Ok. Stiamo facendo una valutazione del titolo, ad altronde, no? Il salto qua si fa già capire che... Apprezzo che non l'abbiano colorato di giallo. Come fanno spesso. St'arrampica da sola. Non male l'aspetto estetico del titolo. Non male. Possiamo migliorare. Programmi di eliminazione speciale. L.T. Ok. Praticamente funge da... Aia. È molto lenta nei movimenti. Effettivamente il combat da... Ah, sì. Salterò milioni di volte. Effettivamente il combat è un po' lignoso, un po' clunky. È più lenta di quanto si creda. Lì bisogna avere un minimo di buona volontà nel fare le cose. Vediamo se c'è. Mette in pausa. Quindi sì. Non è esattamente... Ah, ok. Questa è proprio la pausa. Invece... Ok. Questo non mette in pausa, mi sa, il gioco. Oh, bello. Bellino. A Saint Clau. Oh, esci di qua. Si era... Buggato. Ho sentito che si avvicinava. Dobbiamo curarci, di già. Eh, si avvicinerà? Spero di no. Raggiungi le rive della Seine. Ah, ok. Va bene. Qui c'è il potenziamento. Come va, siamo già a Parigi. Les Invalides è dove, credo, si pronunci così, è più o meno la zona vicino, proprio il centro, vicino alla Tour Eiffel. Che tour, ovviamente, non esistente all'epoca dei fatti. Quindi, è stata costruita per la Fiera Universale di Parigi nel 1900. E basta. Aia. Vi vorrei provare a vedere, intanto, come si rigenerano i colpi dell'arma, proprio del fucile. Quello che sembra un fucile. e capire un attimo se può fare un Perry alla Bloodborne. Vediamo. Ehi. Mi sveglio, eh. Aspetta, qua, ho mancato io. Poi, sempre, tasto. Ah, no, scusa. C'è un range un po' particolare. No. No. Ha fatto un movimento strano, sto giro. Chiave arruginita. Cosa ho fatto? Ah, c'è la concatenazione. Allora, vediamo. Uno. Due. Uh. Si possono usare, allora. C'è una sorta di concatenazione delle... come si chiama? Dei... Dei colpi. Bene, 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 bene. Ok, qua c'è il surriscaldamento e raffreddamento rapido. Quindi, l'autonomia è la stamina. Una volta esaurita l'autonomia endurance, credo che ci sia un piccolo typo, un errore, hanno lasciato endurance lì. La legge si sorriscalda, e non può svolgere attacco, salto, schivate, scatti. Questa è... Ok, da qui si va tipo alla cittadella, non ci interessa. Dobbiamo andare, quindi, di qui. Quella automa aveva una chiave, dato. Ah. A proposito di automa e di chiavi. Inventario. Ok, è proprio Daxos è diventato effettivamente una cosa a sé stante. Dissertata da chimico, permette di fare piccoli quantitativi di danni. Ok, ok, ok. Questa è senza animica. È proprio Daxos 1 a 1. Poi qua ha messo i materiali, perché ovviamente anche Elden Ring ha fatto la sua parte, no? Quanto non è Souls questa cosa? L'ha aperto velocissimamente. Questi sono i falò. Attivare le vestali. Attivando la vestali è un punto di controllo in cui Aegis potrà essere riparata, nel caso venga messa fuori uso. Aumentare gli attributi, aumentare l'agrappeggiamento, ottenere l'agrappeggiamento. Ok. Ok. Attiviamola. Carina. Ed è una sedia. Ed è fisicamente una sedia. Ci riparano. Figo. Possiamo potenziare. Quanto ci costa? Mille. Abbiamo qua 3,20. Slot moduli richiede chiavi per attivarlo. Le armi. Possiamo potenziare. L'arma. L'alabarda. Gribu. Gribu. E l'oliatore. Dose a sbomentare. Siamo catalizzatori di Lavoisier. E la potenza. Un sublimatore di Lavoisier. Ok. Interessante. Vedete che questo gioco. L'emporio. C'è una. C'è. Wow. Quindi non ci sono. Non ci saranno i vendor. Perché c'è già qui. Si possono comprare. Munizioni elementi. Granata esplosiva. San Pietrino. Ah ok. Perfettamente un teschio. Ok. Il teschio esca. Ok. Elisir isolante. Resistenze. Figo. Equipaggiamento. Possiamo comprare le altre armi. Figo. Acquista in vendita. Vedete. Potremmo venderlo. Moduli. Modulo di voglia di vivere. Voglia di vivere. Quello che sarebbe a me. Eccoli i giorni. E modulabilità. Interessante. Materiali. Non abbiamo niente. Ma scusatemi. Quindi. Equipaggiamento. Arma B. Posso avere due armi. Posso toglierla? Figo. Che si possano vedere così. Ah beh. Ok. Qua c'è il diario. Non ci prendiamo in chiacchiere. Chiedevo. Posso togliere la roba che ho addosso? Come in un source. No. Non la posso disabilitare. Ok. Ha un peso? Non credo. Ha equilibrio? Resistenze? Attributi? Non ha pesi. Quindi no. Moltiplicatore bruttino. No. Non ha pesi. Quindi non ha senso toglierli. Ok. Facciamo così ragazzi. È un proviamolo. Ma facciamo uno di quei proviamolo a più episodi. Voglio tenerli un pochino più leggeri. Almeno così possiate vederlo un po' di più. Direi che ci fermeremo al primo boss. Che so già dove ho visto. La prima parte di gioco. Diciamo. Primo mid boss. Poi vedrò. Il titolo mi sta interessando. Questi primi minuti di gioco sono molto interessanti. Ma noi ci vediamo nei prossimi episodi ragazzi. Con Aegis. E figo. Devo capire dove si comprano quelle munizioni. Ecco. Potremmo chiudere così. Chiedendo. Ma le munizioni? Dove si comprano? Oggetto già equipaggiato. Immagino. Non ho. Ce l'ho solo là le munizioni. Le piaschette si ripristinano all'uso. Chiaramente. Vabbè. Ragazzi. Alla prossima.